9 aprile 2007, ci troviamo agli archi di pane, San Biagio Platani, Agrigento e andiamo a scoprire la tradizione di questi archi di pane, chi è che li realizza, chi sono questi che lavorano in continuazione, appena finisce Pasqua subito si mettono al lavoro per il prossimo anno e andiamo a scoprire questa storia che c'è, questa rivalità tra i Signurara e i Madunnara andiamo a scoprire un po' le torci erano misi impostate, le torci erano impostate buonasera, 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 buona Pasqua, buona Pasqua lei di dov'è? dov'è? qua sotto gli archi no no no, lei da dov'è? residente in? San Biagio Platani quindi gioca in casa? sì sì questi archi quando nascono? quando nascono? nel 1700, glielo lo devo io allora, chi sono i Madunnara e i Signurara? signor Madunnara, chi sei Madunnara? qua tu sei Madunnara, sì lei perché ha scelto di essere Madunnara? è tradizione di famiglia guardi la telecamera, puttana miseria è una tradizione di famiglia, io sono nato Madunnara e sono Madunnara perché i miei nonni, mio papà erano Madunnara e io sono Madunnara lei va diventare, a chi è una Madunnara? no, come dall'altra parte sono signorara non permetterà le prossime archi che sto portato dalla chiesa perché le archi si fanno anche per fede si fanno anche per tradizione non si fanno per la gente venire cadere fuori e venire sulla chiesa e fare questo che fanno non facciamo l'archi aspetta, un minuto, un minuto, aspetta un minuto un attimo ci spieghi perché gli archi di Madunnara sono meglio i signorara perché sono chiostra? chiostra? quanti sono? tanto come già le stelle impianti abbiamo 48 e non hanno 26 numero uno che di noi si sono fatti con una certa tecnica? ma si sono fatti chi mano? e perché si sono fatti con le pede? buonasera buonasera questa cravatta che è da guinde? no, ma la regalare complimenti Messina mi chiamo Messina si chiama mio padre si chiama Quaggospina Santa già sappiamo un po' che scagliola vieni qua ciao ciao chiudiamo tutto, oscuriamo tutto ora vengo, ora vengo stevinenna, aspetta ortega un pece di più oddio che mi chiede vediamo cosa è successo a Favara mio cugino Ioppolo Favara le due del pomeriggio due tuoni ma in fece no erano due colpi di lupara poi lui disteso al sole dopo i tuoni non mancano i fulmini dei carabinieri che sono accorsi subito il lutto cittadino a Favara cave non è che ti approfittare la parentela giusto aspetta calmati calmati amici e parenti un giaccazzone non ci veniremo così vieni a casa per favore per favore per favore saluta con la mia voce un saluto a camera zen come mai che qua è oggi cosa è per caso va a Corka giuro che non è vero guarda a parte che lui è brutto vabbè ora scusi eh lei è di San Biagio vero? no sono di San Cataldo di San Cataldo ci dicono una cosa perché oggi gli è venuta la voglia di venire qua a San Biagio Platani perché la presentatrice è la ragazza il mio migliore amico lo sa cosa dice un buffo sotto la doccia? qua qua eh? qua qua come? qua complimenti vogliamo sapere una cosa veniamo qua a San Biagio per guardare gli archi di pane o per mangiare una brioche? mangiare una brioche abbiamo qua il signor Biagio Buscaglia che è venuto a fare qua? io qua io di San Biagio sono di qua sono io per vedere gli archi di pane di San Biagio no? eh che devo dire più? dai di San Biagio e c'è sempre mi piace una mucca mettendo le domande poi non capisco niente mi dico una cosa che cosa canta un buffo sotto la doccia? eh che saccio che tu che bevi? birra birra oh che vivi? che canta? eh che saccio lo buffo lo sa cosa canta? eh è il 2008 cielo grande cielo blu è il suo figlio è il suo figlio è il suo figlio lei ha votato per il reggiseno? no no lo sa cos'è il partito del reggiseno? no me lo dica lei che sostiene le masse divide la destra dalla sinistra e poi? e attira il popolo bene così allora lo sa perché i cavalli hanno le narici grosse i cavalli hanno le narici grosse? non lo so se ti provassi lei a studiare su una su Cuzzoccolo e da Angelo Ioppolo e i miei due bodyguard chi se è nuova per chi lavo giù vuole fare un dottore è tutto da San Biagio Platani per gli archi di Pasqua a voi studio